Buongiorno ragazzi, siamo tornati per il nostro dodicesimo giorno di 21 per Punto Vita. Io oggi ho un evento a Roma, sono pronta per andare a fare il Freedom Fluid Super Jump. Se volete trovare queste tecniche sul mio palestro online, cliccate sulle link sotto. Fammi vedere se c'è il link per capire. Sì, c'è il link così. Now, nowgeencooper.com è una palestra dove c'è il No Ordinary Workout. Troverete cose che di solito non trovate nelle palestre per aiutarti a dimagrire, perché il tramponino è l'allegamento più dimagrante che conosco, è quello che ti serve in menopausa per mantenere attivo il vostro metabolismo. Ma abbiamo le tesi, poi mettiamo subito il nostro termogenico. Dov'è il mio termogenico? Metto il mio siero termogenico perché l'undicesimo giorno, ricordatevi di questo challenge di 21 giorni era la Beauty Farm. Non dimentichiamo la Beauty Farm. Se io applico una crema lipolitica prima di fare la ginnastica, stimola la lipolisi. Che cos'è la lipolisi? Il stimolo del rilascio del grasso dal panicolo sottocutaneo, ok? Così ci aiuta magari di mettere in circolo più grassi che potranno essere smaltiti o metabolizzati come fonte energetico, così da una parte avremo più energia, dall'altra parte la portiamo via dalla zona localizzata dove non vogliamo avere un accumulo. L'unica cosa che vi devo dire è che dopo che l'avete utilizzato la crema, sciacquatevi assolutamente la mano, clicchè, oh, asciugate la mano, sciacquate, come c'è il mio potassio? Oh, lo usate così, toccando la mano sulla faccia non ti bruci. L'altra cosa è il potassio coleodale. La prendo, scusatemi perché adesso vado a fare un lavoro dove sudero tanto e io entro in campo perché sudo tanto per il mio lavoro. Ok, detto questo, andiamo. Il potassio spruzzato sulla zona, destra e sinistra per favore, il potassio spruzzato sulla zona localizzato in modo transdermico può essere assorbito per aiutarli a drenare in modo localizzato. Così, crema lipolitico termogenico che avrà un effetto, diciamo, di rossore fra pochissimo che vuol dire un effetto di vascularizzazione chiamando al sangue nella zona. Ci aiuta con tutto questo trasporto di acidi grassi verso i mitocondri per essere utilizzato come energia. Possiamo usare il potassio che, grazie alle nanoparticelle, si assorbe via transdermico per aiutarci a migliorare proprio il drenaggio insieme. Bomba! Andiamo, buona domenica della palma a tutti quanti. Siamo a 12 giorni, 12 giorni di 21. Solleva quel gomito, schiaccia l'abdome, tiro dentro la pancia e vai. Dovete sentire come se stessi provando di stiracchiare il fianco. Stiracchio, tiro su, tiro su, tiro su. Vai, la mia gonna era incastrato, eh? Tiriamo su, abdominare tesi. E come si fa questo challenge? Non so se è il primo giorno che vedete questo allenamento, ma siamo al giorno 12 di 21. Vuol dire che precedentemente, 11 giorni, sto facendo questi esercizi per voi. Tutti quelli che dovete fare, buongiorno. Vale, buongiorno Elisa. Sì, sono energizzanti che ieri sera avevo un sonno boia, mi veniva un'altra parola, un sonno boia, tipo alle 8. Ieri mi stavo indormentandomi sul divano. Ho provato a resistere fino alle 9, così. Alla fine sono andata a letta, tipo alle 9.50. Ieri sera mi sono svegliata alle 5.30, stava a dire perché comunque ho dormito tanto. Io ero veramente esausta perché ieri ho fatto una live per la mia palestra, poi sono andata a fare un corso di formazione di SuperSonic. Oh, lo sapevate che potete diventare insegnanti di SuperJump online? Se volete cominciare il vostro percorso online, abbiamo ore ed ore ed ore di istruzioni online con sottoscritta, e potete iniziare il vostro percorso a diventare uno SuperJump, anche solo per la tua curiosità, anche solo per la vostra, diciamo, conoscenza personale. Io ho tantissimi SuperJumpers che sono poi diventati certificati come insegnanti, ma non per insegnare, proprio per proprio conoscenza personale, bagaglio di conoscenza personale. Ok, finiamo qua. Adesso cominciamo. Torsione, torsione. Potete anche portare il gomito indietro che amplifica la rotazione, ma tiro dentro la pancia con ogni giro. Tiro dentro la pancia, tiro dentro la pancia. E che cose dovete fare per fare questo challenge? Dovete fare una volta al giorno uno di questi allenamenti. E le persone mi scrivono. Per quante ripetizioni? Segui il video. Perché il video è cinque minuti. Allora mi scrivono. Buongiorno, anche te, Gaglia. Buongiorno, Angelo. Come stanno, ragazze? Ok. E questi... Ma aspetta, non vi ho mandato i cuori. Mi mandate i cuori anche a voi? Mandatemi i cuori. Cuori, cuori, cuori. Ecco i cuori e vediamo. Ok, tiri. E poi vediamo se riusciamo a cuori. Fuori di arcoficio! Io posso anche parlare, no? Fuori di arcoficio! Dai, dai, dai! Vediamo se riusciamo. Eeeh! Ci siamo riusciti! Fuori di arcoficio! Perché stiamo facendo il massimo del nostro benessere. Continui a tirare indietro. Oh, che bello! Tanti, tanti, tanti. Cosa da fare? Oggi dobbiamo andare a fare, diciamo, questo evento. Poi ci sono altre cose in arrivo meravigliose. Poi prossime settimane abbiamo la Pasqua. Poi entriamo in stagione alta del, diciamo, del fitness. Saremo Village dal 19 al 21 aprile per fare Super Jump. Tre giorni di Super Jump e non solo. E poi sarò in Basilicata. Si chiama, aiutami, Scansano Ionico. Con Emotion Convention dal 25 al 28 aprile. E poi abbiamo altre, altre diverse cose. Sarò in Vignanello. Poi vado giù a Salerno. E poi vado... Alex, sono a Salerno o vicino a Salerno? Niente, non mi sta ascoltando? Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4. Tiri il gomito indietro e sente la torsione sul obliquo. Ancora. 8, tiri dentro la pancia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. 1, ok. Testa e sinistra. Come se stessimo provando di raccogliere qualcosa sopra la nostra testa in diagonale. E finiremo con questo ultimo esercizio. Se noterete, ogni allenamento di questi 12 fino adesso è diversa. Abbiamo diversi esercizi. Così non vi annoiate. Possiamo fare 21 giorni. Scattiamo le foto prima e le foto dopo. E vi garantisco, in tre settimane avrete un punto vita. più snello. Ma anche di un centimetro, un centimetro e mezzo. Spero che questo diventa poi uno stimolo per convincervi che con un minimo di costanza il corpo cambierà sempre. Migliorerà sempre. E l'attività ci tiene veramente vivi. perché ti fa sentire più energico, ti fa sentire più, diciamo, in forma ed è più divertente. Continuiamo per 8 e per 7 e per 6 e per 5, ultime 4, ultime 3, ultime 2 e 1. E alla fine, ragazzi, se volete fare allenamenti più intensi, più impegnativi e ovviamente più mirati, venite sulla mia palestra online. C'è la prova gratuita per 7 giorni. perché se ti sfeghi, ti alleni e poi cominci la giornata, ma anche con uno challenge, anche uno challenge soltanto di 10-15 minuti al giorno, che cosa succede? Ti cambia la vita perché poi ti senti già con la coscienza a posto. Magari questo ti costringe o ti stimola di mangiare meglio perché dici, mi sono già allenato, ma che mangio male? No, ovviamente. E' una cosa che è un cane che si bacia la coda. Per il resto, entriamo nella settimana santa da oggi. Per me è molto sentito questa settimana, così vi ben dico tutto. Vi auguro tutti quanti una settimana meravigliosa. Saremo insieme tutta una settimana per concludere il nostro, diciamo, viaggio di questi 21 giorni dedicato al nostro punto vita. E adesso vado a Roma a fare una meravigliosa evento di Freedom, di Fluid e di Superjump. Baccio a tutti!